La fotografia è la sua essenza, il filo conduttore di una mostra ospitata al castello di Bauso a Villa Franca Tirrena, nel messinese, 108 scatti di altrettanti autori italiani e stranieri all'insegna della libertà di scelta per lo stile di soggetti. Il servizio è di Orazio Aleppo, vediamo. La bellezza della fotografia nella sua essenza, 108 scatti di 20 tra amatori e grandi professionisti come Zoltan Naghi e Paola Agosti, bianco e nero, colore e nuove tendenze, molto più vicine alla grafica computerizzata che alla foto tradizionale, esposta nel castello di Bauso a Villa Franca Tirrena, nel messinese, nell'ambito della seconda edizione della rassegna internazionale di fotografia. Dalla Turchia alla Francia, passando per la Germania, Norvegia, Ungheria ed Egitto, la fotografia unisce popoli e culture diverse. A volte si va uno contro l'altro, nel senso di la mia immagine è migliore della tua, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente, specialmente per le foto amature, la fotografia è un concorso di amici. Le nuove tecnologie digitali, spiega il fotoreporter di origine ungherese Zoltan Naghi, hanno democratizzato l'arte della fotografia, consentendo anche ai meno esperti di realizzare scatti interessanti. La base popolare della fotografia si è ingrandita, si è allargata e poi vediamo quello che viene fuori della qualità, no? Questo ancora non sappiamo. Possiamo dire che a scuola tutti quanti imparano a scrivere e leggere, però i veri scrittori, poeti, sono tuttora pochi. La mostra resterà aperta fino a sabato prossimo.